PEDALANDO La nostra serata di ciclismo prosegue con il primo trofeo Bartali e Coppi che è inserito nei festeggiamenti che anticipano poi il passaggio del Giro d'Italia d'epoca infatti dopo che nel giorno di giovedì c'è stata l'inaugurazione del cippo per i ciclisti sul santuario di San Baronto quest'oggi le immagini si riferiscono a venerdì scorso stiamo per assaporare questa gara amatoriale che quindi vedrà al via le categorie amatori dopodiché il giorno di sabato sarà poi presente una gara giovanissimi ed il giorno domenica il grande finale con la tappa del Giro d'Italia d'epoca e con le immagini siamo proprio alla parita per questa manifestazione che è organizzata dall'ASD ciclo sovigliana in collaborazione con i club glorie del ciclismo toscana e gli sportivi della parita e questa prova dove sono presenti anche i giudici Wisp il presidente di giuria è Fischi Stefano il componente Cecchini Andrea e Calafati Graziano poi è presente anche Quagli Paolo mentre il photo finish è a cura di Paolo Prosperi siamo proprio nei momenti imminenti alla partenza questa partenza per il momento ufficiosa proprio dalla parita è quella a cui si riferiscono le immagini e che riguarda le categorie A1, A2 e A3 che dovranno percorrere 4 giri del percorso per un totale di 68 km questa manifestazione come vi ho detto in serita nel festeggiamento per la tappa del Giro d'Italia d'epoca che andrà in scena domenica proprio qui alla parita e questo primo trofeo Bartali e Coppi organizzato dall'ASD ciclo sovigliana intanto è avvenuta già la partenza ufficiale partenza ufficiale volante subito iniziano gli attacchi in testa alla corsa volto il numero dei partecipanti infatti sono state ben due le partenze questa è la prima che riguarda le categorie A1, A2, A3 e quindi le categorie più giovani nell'intero mondo amatoriale della UISP e poi assisteremo anche alla gara che vedrà in scena le categorie dall'A4 all'A6 e poi anche le donne che saranno comprese nella seconda partenza lasciamo sfilare il fotogruppo dei partecipanti adesso con le immagini siamo al chilometro 21 infatti c'è un attacco di 4 atleti si tratta del dorsale numero 44 Matteo Cappè poi è presente il dorsale numero 66 si tratta in questo caso del corridore Alfonso Falsalano poi è presente il 191 ancora in questo drappello sugli uomini alla comando Merlo Alessandro e con il dorsale numero 125 troviamo ancora all'attacco Luca Panati quindi sono in 4 adesso gli atleti alla comando hanno già un notevole vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori infatti il gruppo è segnalato a un minuto di ritardo e quindi davvero importante per il momento il vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori addirittura è segnalato un primo gruppetto inseguitore a circa un minuto di ritardo mentre il gruppo è segnalato ad oltre un minuto e quindi davvero sta prendendo subito importante campo questa azione A4 che sta vedendo protagonisti gli atleti che vedete inquadrati in questo momento adesso andiamo a controllare alle loro spalle c'è un folto drappello sono circa una decina di atleti che stanno guidando in questo momento l'inseguimento i più immediati inseguitori con il dorsale numero 56 troviamo Andrea Nesti con il dorsale numero 168 è presente Dario Ballati con il 127 Stefano Nicoletti con il dorsale numero 199 troviamo in questo drappello inseguitore Paolo Posarelli con il dorsale numero 40 invece è presente Giacomo Sanzoni con il 7 Francesco Fiorenza con il dorsale numero 154 invece troviamo Fabrizio Convalle con il dorsale numero 18 in questo drappello è presente Mattia Anzalone con il dorsale numero 19 Andrea Beconcini e con il dorsale numero 179 Claudio Girardi questi atleti hanno un ritardo di un minuto primo dalla testa della corsa che è formata da 4 atleti abbiamo visto in precedenza gli atleti che stanno animando questa manifestazione vi ricordo la composizione della testa della corsa con il dorsale numero 44 abbiamo Matteo Cappè con il dorsale numero 66 Alfonso Falzarano con il dorsale numero 191 Alessandro Merlo e con il dorsale numero 125 sulla testa della corsa a comporre il quartetto al comando Luca Panati questi sono i più immediati inseguitori che hanno un ritardo di un minuto primo mentre il gruppo è segnalato con un ritardo di un minuto e 20 quindi si sta davvero infiammando la corsa subito nei primissimi chilometri un importante tentativo di fuga che vede i protagonisti 4 uomini questi sono i più immediati inseguitori che hanno un ritardo di un minuto primo il gruppo che vediamo in questo momento ha un ritardo di un minuto e 20 abbiamo visto sulla testa Trinci Francesco sulla testa del gruppo a fare l'andatura ma questi atleti hanno già un ritardo che è superiore al minuto e 20 nonostante adesso tre atleti si siano leggermente avvantaggiati però il loro ritardo è già abbastanza pensante abbastanza considerevole nei confronti degli atleti che stanno in questo momento guidando la corsa e sono in 4 l'abbiamo visto in precedenza adesso andremo poi ancora a ritornare sulla testa della corsa ma diamo ancora prima uno sguardo d'insieme ed è davvero un bel colpo d'occhio sulle immagini che ci mostrano il plotone il plotone al passaggio davanti alla nostra telecamera si è leggermente allungato in questo tratto il gruppo siamo sui continui saliscendi che caratterizzano la zona del comune di Vinci e della parita da cui è avvenuta la partenza saliscendi tipici di questa zona una zona dove il ciclismo è pane quotidiano e quindi salitelle che sono sicuramente conosciute da tutti e che questi atleti stanno affrontando davvero con un grande ritmo in questa prima edizione del trofeo Bartali Coppi adesso torneremo sulla testa della corsa si è formato un terzetto con il dorsale numero 66 abbiamo e sono un po' gli atleti che erano al comando davanti Alfonso Falzarano con il dorsale numero 191 è presente Merlo Alessandro poi con il dorsale numero 44 compone questo terzetto al comando Matteo Cappè quindi ha perso contatto il dorsale numero 125 che era stato uno dei promotori insieme a questi tre atleti di questa azione Luca Panati che quindi ha perso contatto dalla testa della corsa siamo al cinquantesimo chilometro di gara ne mancano 18 alla conclusione ormai siamo in vista del passaggio sotto lo strusione di arrivo quando ne mancheranno 17 al traguardo questi atleti e questo terzetto sta animando ormai questo finale di corsa se ne sono andati sin dai primi chilometri quindi si stanno davvero meritando l'attenzione in questa prima edizione del trofeo Bartali e Coppi stanno animando alla grande il finale di corsa come hanno animato anche le fasi iniziali quindi adesso lasciamo li sfilare per andare a controllare la situazione alle loro spalle situazione che però ha poco da segnalare infatti questi atleti hanno un ritardo di due minuti primi dalla testa della corsa e quindi per loro davvero difficile se non impossibile a questo punto ricucire sugli uomini alla comando in questo gruppo troviamo il dorsale numero 168 Dario Ballati poi troviamo il dorsale numero 135 si tratta di Luca Fallani poi il 178 invece è Stefano Lopresti con il dorsale numero 17 in questo trapelle è presente Luigi Salimbeni con il 7 Francesco Fiorenza con il dorsale numero 52 invece troviamo Walter Mori con il dorsale numero 23 in questo gruppo è presente Francesco Trinci con il dorsale numero 132 invece troviamo Massimo Di Franco con il dorsale numero 153 è presente Fabrizio Convalle con il dorsale numero 142 invece troviamo Roberto Ferrari con il dorsale numero 127 Stefano Nicoletti e con il dorsale numero 179 chiude in questo trappello Claudio Girardi invece questi atleti hanno un ritardo che supera abbondantemente i 2 minuti e 30 secondi quindi ormai fuori dai giochi per l'assegnazione del successo a questo punto possiamo dirlo perché i tre uomini alla comando saranno loro a giocarsi la vittoria in questo primo trofeo Bartali Coppio organizzato dall'ASD Ciclo Sovigliana in collaborazione con il club delle glorie del ciclismo toscano e gli sportivi della parita li stiamo vedendo in questo momento gli atleti all'inseguimento su questo è il gruppo che possiamo definire gruppo ammiraglie ma ormai per loro veramente fuori dai giochi intanto vi ricordo anche che la scorta tecnica in queste due manifestazioni queste due partenze che ci stiamo seguendo è offerta dallo staff della Moto Guzzi di Prato mentre il servizio sanitario è a cura della misericordia di Vinci mentre adesso siamo proprio nelle fasi finali di corsa ultimi 3 km vengono superati alcuni atleti che fanno parte di altre categorie dai 3 atleti alla comando vi ricordo i loro nomi perché davvero meritano un applauso perché hanno animato questa manifestazione sin dai primi chilometri allora con il dorsale numero 44 troviamo Matteo Cappè con il dorsale numero 66 troviamo Alfonso Falsarano e con il dorsale numero 191 è presente Alessandro Merlo quindi saranno loro 3 a giocarsi il successo vediamo proprio a chiudere Alessandro Merlo lui che fa parte della categoria A3 mentre gli altri 2 fanno parte della categoria A2 quindi sarà una sfida anche all'interno delle categorie stesse in quanto c'è ovviamente la sfida per il successo sia nella classifica generale quella assoluta sia nella classifica di categoria in quanto si stanno sfidando in questo momento le categorie A1 A2 e A3 non ci sono rappresentanti della categoria A1 in questa fuga e quindi per quanto riguarda la categoria A3 dovrebbe essere facile il successo di Alessandro Merlo in quanto è da solo in questo momento sulla testa della corsa di questa categoria quando mancano ormai 3 km alla conclusione mentre nella categoria A2 sarà una sfida tra Alfonso Falsarano e Matteo Cappè e questi due atleti si andranno verosimilmente a giocare il successo nella categoria A2 ma sarà davvero interessante anche la sfida perché ci stiamo apprestando ad una volata A3 quando siamo ormai nel corso degli ultimissimi chilometri di gara in questo primo trofeo Bartali e Coppio organizzato dall'ASD ciclo Sovigliana in collaborazione con le vecchie glorie del ciclismo toscano e gli sportivi della parita ancora 3 uomini alla comando ormai ci apprestiamo a seguire la conclusione tutto è pronto per l'epilogo di questa prima partenza del trofeo Bartali Coppio è una volata a 3 come voleva preannunciarsi vediamo che è proprio Alfonso Falsarano che va a vincere anche nella classifica assoluta e si aggiudica anche la prova della categoria A2 davanti a Matteo Cappè nella categoria A2 mentre la categoria A3 è a pannaggio di Alessandro Merlo poi andremo a vedere ora con tutti gli arrivi anche le altre posizioni della categoria aspettiamo perché davvero c'è un notevole distacco tra i primi 3 atleti e il resto dei partecipanti hanno fatto veramente il vuoto questi 3 atleti quindi davvero un applauso per loro questa è la volata del gruppo che si conclude in questo momento e quindi pone fine al primo trofeo Bartali Coppi per le categorie A1 A2 A3 adesso andiamo a vedere le classifiche nella categoria A1 successo di Daniele Michi davanti ad Alfonso Francesco Fiorenza e Luigi Salimbeni in quarta posizione Mattia Azzalone in quinta Francesco Trinci nella categoria A3 successo di Alessandro Merlo come abbiamo già visto che si è piazzato in seconda posizione nella classifica assoluta davanti a Fabrizio Convalle Massimo Di Franco Claudio Girardi ed in quinta posizione Enrico Bartolozzi nella categoria A2 successo e successo anche nella classifica assoluta per Alfonso Falsarano del Team Guru in seconda posizione Matteo Cappè in terza Marco Buratti in quarta Giacomo Sanzoni e quinto è Roberto Benedetti quindi si archivia la prova riservata alle categorie A1 A2 e A3 a questo punto ci aspettiamo di seguire la prova che invece vedrà partecipi gli atleti delle categorie A4 A5 e A6 e donne e quindi l'ultima prova di giornata che vedrà impegnati questi atleti intanto vi segnaliamo che non ci sono partecipanti della categoria A6 quindi saranno le categorie A5 e A4 e la categoria femminile che vedranno adesso alla via siamo in attesa proprio della partenza ufficiosa che avviene in questo momento dalla parita e poi avremo anche la partenza ufficiale di questa ultima partenza di giornata vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del primo trofeo Bartali Coppi organizzazione firmata dall'ASD Ciclo Sovegliana in collaborazione con il Club delle Glorie del ciclismo toscano e gli sportivi della parita ormai siamo proprio nei momenti successivi alla partenza ufficiosa tra non molto il via ufficiale verrà dato anche a questi atleti che quindi si misureranno sullo stesso circuito sempre 4 giri del circuito intorno alla parita che misurano in totale 68 km come abbiamo visto anche in precedenza con il successo di Falsarano quindi a questo momento siamo ormai alla via ufficiale via ufficiale che sta per prendere il via vi ricordo anche la giuria che è composta dal presidente Stefano Fischi dal componente Andrea Cecchini e dagli altri componenti Graziano Calafati e Paolo Quagli il fotofinish di Paolo Prosperi intanto vi ricordo anche l'organizzazione che è firmata dalla SD Ciclo Sovigliana in collaborazione con il club delle glorie del ciclismo toscano e gli sportivi della parita lasciamo adesso sfilare il fotogruppo degli atleti al via vediamo anche l'unica partecipante della categoria femminile si tratta di Anna Circelli del club sport Campigli adesso con le immagini siamo passati al terzo chilometro di gara c'è subito un attacco si tratta del dorsale numero 254 Luca Nesti che guadagna 10 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori quindi siamo sullo strappo sulle serie di strappi in località Borgano tratto particolarmente impegnativo di corsa come un po' tutto il percorso qui che si snoda sui saliscendi della campagna toscana alle pendici della collina di San Baronto e quindi tutto solo adesso Luca Nesti prova ad evadere dal gruppo ciclo la sua ciclo gruppo sportivo Falaschi la sua formazione al suo inseguimento abbiamo il dorsale numero 240 si tratta di Giovanni Ruscillo che invece milita nella sport group pochi metri di ritardo per il corridore in casacca sport gruppo Giovanni Ruscillo che quindi sembra in grado in questo momento di chiudere sulla testa della corsa potrebbe formarsi una coppia al comando vediamo proprio in questo momento che avviene il ricongiungimento mentre il plotone adesso accusa un ritardo di 15 secondi nei confronti dei due atleti al comando che abbiamo visto in precedenza e quindi adesso andremo a seguire le fasi centrali di corsa gruppo che come vediamo è ancora forte di tante unità la partenza è avvenuta da pochi chilometri appena 4 chilometri di gara percorsi quindi c'è un attacco a 2 ma il loro vantaggio è davvero minimo vi ricordo che sulla testa in questo momento abbiamo Luca Nesti che è stato il promotore dell'azione insieme a Giovanni Ruscillo si sono uniti pochi chilometri fa e adesso viaggiano assieme ma il loro vantaggio è davvero minimo nei confronti di questi atleti che vanno a formare il gruppo ammiraglie vi ricordo che stiamo seguendo la prova riservata alle categorie a 4 a 5 a 6 dalla categoria femminile nel primo trofeo Bartali Coppi organizzato dall'AS di Ciclo Sovigliana in collaborazione con il club delle glorie del ciclismo toscano e gli sportivi della parita questo ancora è il gruppo dei tanti partecipanti alla via lasciamo sfilare proprio il gruppo che possiamo definire il gruppo ammiraglie in questa prova che è valida come primo trofeo Bartali Coppi vi ricordo poi il giorno successivo l'appuntamento con la categoria giovanissimi sempre qui alla parita e poi la domenica il gran finale con la nona tappa del Giro d'Italia d'epoca lasciamo adesso sfilare tutti i partecipanti siamo ancora alla comando sono stati percorsi 32 km di gara è cambiata la situazione abbiamo Rossano Lischi adesso del Veloclub San Vincenzo in testa alla corsa dorsale di gara numero 252 per il corridore che viene dalla provincia di Livorno e che quindi sta provando una solo sono stati percorsi 32 km di gara siamo quindi ormai ci avviciniamo a metà corsa ed ha un vantaggio che è adesso superiore a 30 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori quindi si sta davvero mettendo in ottima luce il corridore livornese dorsale di gara numero 252 Rossano Lischi che lasciamo adesso sfilare sulla testa della corsa questi sono i più immediati inseguitori è un drappello forte di una decina di unità che insegue con 30 secondi di ritardo troviamo il numero 234 Roberto Angeli il 253 Giorgio Baroni il 250 Enrico Bianchetti il 236 e invece Moreno Amore il 249 in questo drappello Alessandro Lenzi con il 244 Maurizio Giorgi con il 271 invece troviamo sempre in questo gruppo Alessandro Fiesoli con il 230 è presente Luciano Fumalbi con il 240 Giovanni Ruscillo e con il 278 troviamo invece sempre in questo drappello Tiziano Mariotti chiude il 233 si tratta di Andrea Panconi in questo momento questi sono i più immediati inseguitori del corridore solitario alla comando vi ricordo ancora a fare l'andatura il dorsale di gara numero 252 Rossano Lischi con 30 secondi di vantaggio nei confronti di questi atleti che vedete in questo momento inquadrato questo è proprio Andrea Panconi con la maglia di campione d'Italia poi questi atleti che invece accusano un ritardo di 40 secondi e quindi poi tutta la corsa che va a seguire con distacchi maggiori siamo al 50esimo chilometro di gara ancora tutto solo sta proseguendo nella sua azione il dorsale di gara numero 252 Rossano Lischi si sta mettendo davvero in ottima luce l'atleta del velo club San Vincenzo continua con un vantaggio che adesso è salito a 50 secondi quindi si sta davvero proponendo in grande stile questo atleta Livornese che a questo punto è ormai dopo 20 chilometri di fuga ha aumentato il suo vantaggio 50 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori e vuole a tutti i costi il successo nel primo trofeo Bartali Coppi organizzazione firmata dal velo club sovigliana ciclo sovigliana in collaborazione con il club delle glorie del ciclismo toscano e gli sportivi della parita vi ricordo anche l'apporto della scorta tecnica della moto guzzi del servizio sanitario della misericordia di Vinci siamo al passaggio inizia in questo momento l'ultimo giro poi la situazione alle spalle del fuggitivo troviamo adesso il dorsale numero 244 Maurizio Giorgi e poi con il dorsale numero 233 Andrea Panconi questi due atleti hanno un ritardo di 50 secondi in questo momento quindi quando siamo ormai nell'inizio dell'ultimo giro quindi ultimi 17 chilometri di gara anche per loro che si apprestano proprio nel transit tra la località della parita e proprio dove avviene qui siamo proprio davanti al circolo della parita si forma questa coppia all'inseguimento del fuggitivo solitario al comando che è il dorsale numero 252 Rossano Lischi che sta davvero animando tutta la fase centrale di questa manifestazione e ormai ci avviamo alla conclusione anche della prova riservata alle categorie A4 A5 A6 e alla categoria femminile quindi adesso questi inseguitori stanno cercando di chiudere il gap nei confronti del fuggitivo solitario al comando Rossano Lischi del Veloclub San Vincenzo questi due atleti hanno ancora un ritardo di 2 minuti e 5 secondi poi adesso aspettiamo anche il resto del plotone che è segnalato con un ritardo che invece supera il minuto e mezzo quindi ormai chiara la situazione siamo negli ultimi chilometri siamo in vista del cartello che segnala 2 chilometri alla conclusione per il corridore solitario al comando ormai imprendibile Rossano Lischi del Veloclub San Vincenzo si sta avviando al successo in questo primo trofeo Bartali Coppi lui che fa parte della categoria A4 e che ovviamente nel caso di vittoria si aggiudicherà anche la prova di questa categoria e poi andremo a seguire anche la lotta nella categoria A5 sarà un finale davvero emozionante in questo primo trofeo Bartali Coppi per quanto riguarda la classifica generale assoluta non ci dovrebbero essere dubbi infatti continua a guadagnare Rossano Lischi del Veloclub San Vincenzo un ottima ancora la sua pedalata quando siamo nel tratto finale ormai si appresta ad alzarsi sul sistemarsi la maglia per alzare le braccia ormai convinto di aver vinto infatti è imprendibile Rossano Lischi tutto pronto ormai per lui per alzare le braccia al cielo e può dirlo forte di aver vinto il primo trofeo Bartali Coppi la parita successo solitario per Rossano Lischi Veloclub San Vincenzo passa in questo momento sotto lo striscione di arrivo aspettiamo adesso la conclusione per la seconda piazza si tratta di una della coppia che abbiamo visto in precedenza formata da Maurizio Giorgi e da Andrea Panconi ed è proprio Maurizio Giorgi che va ad aggiudicarsi la seconda posizione secondo anche nella categoria A4 mentre in terza posizione sia nell'assoluta sia nella categoria A4 va ad aggiudicarsela Andrea Panconi continua ad arrivare altri atleti e allora andiamo a fare il repilogo per le categorie A4 e A5 ovviamente nella categoria A4 il podio lo abbiamo già fatto con Rossano Lischi che va a vincere davanti a Maurizio Giorgi ed Andrea Panconi in quarta posizione Giovanni Ruscillo quinto è Enrico Burchetti per quanto riguarda la categoria A5 successo di Alessandro Fiesoli davanti a Tiziano Mariotti Guglielmo D'Ambrosio e Antonio Biancani che chiude in quarta posizione quindi si archivia questa prima edizione del trofeo Bartali Coppi organizzazione firmata dall'AS di Ciclo Sovigliana in collaborazione con il club delle glorie del ciclismo toscano e gli sportivi della parita a questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato al termine della prova vediamo proprio l'omaggio a Bartali e Coppi parola a Vitaliano Innocenti per le interviste del Dopocorsa Vittorio Desideri è il presidente del circolo qui della parita dove oggi si è svolta questa bellissima manifestazione riservata alla categoria amatore sono partiti in tanti Vittorio hanno richiamato tantissima gente qui alla parita questo è un posto di campagna un bel posto un posto piccolo però si fa sempre delle cose infatti si pensa di farle al meglio su tutti i posti in cui ci si muove si fa delle manifestazioni molto 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 belle via io bene il posto è piccolo e purtroppo si fa il massimo del possibile senti Vittorio Ancillotti Piero vi ha coinvolto un po' ormai sono qualche anno che vi ha coinvolto in questa organizzazione dunque voi siete soddisfatti io sono il presidente ma il padrone è lui non so me ma va bene ci ha soddisfatto più che soddisfatti tutti e lui sarà soddisfatto di noi perché effettivamente non si può penso che non si possa lamentare di questa frazione via Piero Ancillotti allora Piero già il secondo giorno di fatica che se ne è già andato perché quando si organizza qualcosa siamo un po' titubanti succederà qualcosa questa seconda giornata se ne è già andata tutto è andato bene tanti partenti tantissimo pubblico Sì Alla Parita ormai è una zona molto frequentata da queste gente passano tutti i giorni vedono che abbiamo una preparazione ottima su questo ormai sono degli anni che facciamo questa manifestazione siamo arrivati al decimo anno di attività e allora non possano altro che venire alla Parita perché la Parita è un posto fantastico dove si respira aria buona siamo con la maglia rosa del Giro d'Italia d'epoca con Cristian Cappelletto dunque Cristian è venuto in Toscana all'ottava tappa per mantenere questa maglia sicuramente anche se il secondo in classifica va forte va molto più forte di me con un altro spirito e speriamo di non avere rotture perché il problema più grosso è avere rotture sulle biciclette perché è quello il dramma più grande però insomma sono qui per cercare di mantenerla questa maglia e di divertirmi soprattutto un nome breve per camminare più a lungo un nome breve per volare sempre più in alto grazie a tutti